I produttori di latte per grana padano appartengono a famiglie che da generazioni hanno dedicato la loro vita all'allevamento delle vacche, alla coltivazione del territorio di tutta la pianura padana nel nord Italia. Un lavoro fatto con il cuore perché questi animali sono considerate parte della famiglia. I fondamentali nel territorio di produzione del grana padano dopo sono il clima, la quantità e la qualità dell'acqua. Quest'ultima è ricca di minerali, viene dalle montagne qua vicino e aiuta le coltivazioni del fieno, del mais e di tanti altri foraggi previsti dal disciplinare di produzione, ideali per le vacche che producono latte di alta qualità. La ricetta del grana padano è stata creata dai monaci dell'abbazia di Chiara Valle, vicino a Milano, a pochi chilometri da qui. Quasi mille anni fa, nel corso dei secoli è stata tramandata di generazione in generazione mantenendo viva la tradizione. La ricetta e il processo di produzione del grana padano fondamentalmente non sono mai cambiati. E noi siamo particolarmente fieri di mantenere, tramandare e migliorare costantemente questa tradizione. Il latte utilizzato per il grana padano dopo è parzialmente scremato per raffioramento naturale. Questo significa meno grasso rispetto ad altri formaggi. Inoltre, grazie alla lunga stagionatura, è privo di lattosio. Grana padano è un ingrediente importante nella cucina degli italiani. Infatti, grazie alla sua versatilità, si sposa bene con tante preparazioni e dà equilibrio alla tavola. Ogni scaglia di grana padano è di per sé unica. Grana padano ha un gusto speciale e, come tutta la cucina italiana, mette insieme i migliori ingredienti per creare uno spirito di condivisione, unione e fratellanza. Grana padano rappresenta il lavoro di una vita. Siamo orgogliosi di poter condividere la qualità e il sapore distintivo del nostro formaggio con il mondo intero. Grazie a tutti.